Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento con Rosso Blu in onda in maniera eccezionale di mercoledì perché questa è una trasmissione che potrete seguire tutti i martedì alle 21 su Antenna Sud Extra ovviamente ieri il Taranto era in campo, ha giocato questa partita playoff d'andata per il primo turno nazionale contro l'Anerossi Vicenza, sabato si fa il cosiddetto secondo tempo, il secondo round di questo match eliminazione diretta quindi siamo qui con voi proprio per analizzare il momento, per capire meglio quali saranno le chance che ha il Taranto per la trasferta al Romeo Menti di Vicenza allora salutiamo subito gli ospiti che abbiamo qui, non poteva non esserci Loris Zonta Buonasera a tutti Centrocappista Rosso Blu, tra l'altro ex Vicenza e Vicentino di nascita a 20 km dal capoluogo Veneto e poi Roberto Donofrio, grazie Roberto, grazie Loris per essere qui con noi allora facciamo così, se siete d'accordo iniziamo con questa sigla vediamoci questi pochi minuti di video che riassumono quello che è successo soprattutto sugli spalti ieri perché se c'è un vincitore, come ha detto Capuano, questo è il pubblico dello Iacovone, vedete Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ecco, un pubblico di Serie A Loris Zonta, ecco, in quei momenti, mentre entravi in campo tra l'altro per giocare la partita forse più importante della stagione contro la tua ex squadra per la quale tra l'altro sei ancora tesserato perché sei in prestito col Taranto le emozioni, ecco, questa è una domanda classica però non facciamo più le emozioni che hai provato in quel momento è stata da brividi, comunque è un'atmosfera che in C non si vede, non si vede in pochissimi stadi è stata veramente un'emozione pazzesca, non ci sono parole per descrivere lo spettacolo che c'è stato ieri sera sui spatti e anche nelle altre due gare di playoff ma comunque quest'anno, tutto l'anno i tifosi ci sono stati sempre vicino e ci hanno sostenuto il primo al novantesimo in tutte le gare in casa e anche tante volte ci sentivamo in casa 10.800 i biglietti venduti, questo perché? Perché non era possibile venderne di più se ci fossero stati disponibili 25.000 biglietti sarebbero stati venduti tutti soprattutto se ci fosse stata l'altra curva, il settore inferiore, l'anello inferiore della gradinata anche l'anello inferiore scoperto dalla tribuna cioè sarebbe stata davvero una quantità di gente impressionante Gianni dici bene, purtroppo c'è stata gente che non ha potuto godere di questo spettacolo maimè troppi anni lo stadio ormai da tempo è in condizione che non ti permette di fare il sold out nel vero senso della parola, però è stato bello vedere quelle 11.000 persone dispiace che veramente poi questo tipo di spettacolo se lo dovrebbero godere tutti peccato devo anche aggiungere io, peccato non vedere sempre lo stadio pieno questa è una cosa che a me francamente dispiace invece allora se volevo chiedere pronti via si parte uscite dagli spogliatori e vedete tutta questa gente anche perché l'avete vista già quando siete arrivati un'ora e mezza prima della partita che effetto fa? Sì sicuramente comunque c'era già tanta gente durante l'iscaldamento ti carica perché ovviamente per un giocatore giocare con così tanta gente è solo motivo di orgoglio e di stimolo per quello che stiamo facendo e che abbiamo fatto durante la stagione essersi meritati una cornice di pubblico di questo tipo fa sicuramente piacere e come ti dicevo un'emozione incredibile infatti a volte cercavamo di non guardare per comunque non farsi prendere troppo dall'emozione e per restare concentrati per la partita Bene, ecco allora vediamo le immagini della gara così poi le commentiamo insieme mentre Serena ha meno di 24 ore di distanza dalla partita vediamo insieme quello che è successo allo Iacobone ecco il Taranto subisce questo gol a freddo dopo 9 minuti sai l'atmosfera della partita importante, dei playoff nazionali, il grande pubblico prendere un gol dopo 9 minuti può avere in qualche modo condizionato la squadra e poi il risultato finale Sicuramente prendere un gol a freddo non è facile da gestire per nessuna squadra quello che siamo stati bravi è comunque essere rimasti in gara e aver cercato fino alla fine di pareggiare la partita perché magari capita che molte squadre sbraghino o comunque vadano in difficoltà e rischi di prendere magari 2-3 gol e poi sarebbe stato difficile recuperare la partita di ritorno invece siamo stati squadra e siamo compattati nella difficoltà dell'accaduto abbiamo cercato di pareggiare la partita per poi andarci a giocare come dicevi tu il secondo tempo a Vicenza E allora vediamo le immagini, qui siamo all'azione del gol che nasce poi da un calcio d'angolo veramente banale e qui c'è, io penso Roberto che ci sia un errore della retroguardia perché su questo ovviamente teniamo fuori zonte perché la testata di Ferrari è facile facile almeno vedendola così viene pescato Sì, diciamo che la linea difensiva sale, se guardi un po' sono gli esterni qualche esterno che resta un po' dietro e quindi tiene in linea il giocatore ma la linea difensiva sale tutta Gianni, come dicevi tu, sono quei minuti dove c'è ancora l'adrenalina addosso dove c'è il coinvolgimento emozionale, dove tra virgolette non sei proprio sereno o per assurdo sei convinto che il compagno prenda la palla e tu sei pronto a ripartire insomma ci sono chiaramente quelle situazioni che purtroppo in una partita capitano e queste sono invece, questa è un'azione pericolosissima Sì, qui eravamo al 35esimo, il Taranto era sbilanciato perché ovviamente era riversato nella metà campo avversario per tentare di riequilibrare il risultato e lasciava ampi spazi all'avversario la ripartenza di Della Morte che poi ha servito a Greco questa palla deliziosa tu per tu con il portiere del Taranto che ha parato qui Zonta, un inserimento di quelli che noi ormai conosciamo bene del numero 29 del Taranto alla tre quarti, entra in aria, stop di esterno e tiro di destro qui bisogna dire la verità, Confente bravissimo, bravissimo ma fortunatissimo perché se la trova sotto la schiena, vedete, la va a parare proprio con la gamba, con la coscia con i glutei in qualche modo poi si rialza e la butta via qui sarebbe stato pazzesco segnare un gol da ex nei pressi della curva nord sarebbe stata forse una cosa che non avresti dimenticato mai Sicuramente, poi un gol, ho segnato tutti i gol in trasferta quest'anno segnare in casa è una cosa che mi è mancata e avrei voluto sicuramente farlo ieri poi ovviamente quando non segni sicuramente si poteva fare di meglio però c'è da dire che anche Confente ha fatto una grande parata o comunque è stato fortunato in quella circostanza Continuiamo a vedere le immagini Sì, io gli volevo chiedere, voi durante la settimana durante la settimana è una parola grossa in quei pochi giorni che avete avuto di tempo per preparare la partita il Vicenza che avete incontrato era quello che avevate preventivato oppure vi ha sorpreso su qualche mossa tattica? Ma noi pensavamo che potesse giocare o 3-4-3 o 3-5-2 ci eravamo soffermati di più sul 3-4-3 perché ovviamente era il modulo che aveva più utilizzato durante la stagione però sapevamo anche di questa possibilità visto che ovviamente loro con due pareggi avrebbero potuto passare il turno quindi ci aspettavamo anche un Vicenza un po' più attendista qui da noi e quindi l'abbiamo più o meno preparata così sui due sistemi di gioco e poi prima quando il mister è arrivata la distinta ci ha comunicato che avrebbero giocato 3-5-2 e ci siamo organizzati per affrontare i 3-5-2 Era evidente il fatto che lo è stato almeno per noi un Vicenza che comunque è arrivato a Taranto per coprirsi e ripartire perché poi il pallino del gioco è sempre stato in mano al Taranto Sì ma io comunque ho avuto come allenatore vecchi quando erano le giovanili dell'Inter e lui è un allenatore molto organizzato che prende per pochissimi gol che comunque predilige anche molto la fase difensiva e poi cerca nelle ripartenze di fare male agli avversari o comunque avendo i due risultati su tre ha potuto magari gestire in casa nostra dove noi abbiamo fatto un cammino straordinario durante l'anno l'ha preparata in questa maniera qua Possiamo dire che al di là del fatto che tu vesti la casacca del Taranto che il risultato più giusto sarebbe stato quello del pareggio indipendentemente dal fatto che tu giochi nel Taranto? Sicuramente, secondo me abbiamo avuto le occasioni per pareggiare la partita e ce lo meritavamo Siamo stati forse non cinici al punto giusto o anche per bravura del portiere avversario perché c'è da riconoscere che con Fente anche su De Marchi ha fatto una parata che in questa categoria si vedono poco e abbiamo perso una partita dove forse qualcosina in più lo meritavamo Una curiosità mia personale, ma dagli spalti si vedeva questo loro ogni due partite andavano a terra nella fase finale ma 20 minuti prima della partita era solo una perdita di tempo o realmente anche loro stanno tra virgolette un po' Penso che sia anche una questione di stanchezza perché comunque quando sei fermo da dieci giorni secondo me sei avvantaggiato per il fatto che non hai tre partite sulle gambe come potevamo averle noi però da un lato non hai magari il ritmo gara o comunque fai fatica a prenderlo e di conseguenza poi sono anche una squadra esperta hanno giocatori di grande esperienza che hanno fatto tante partite di questo tipo e ovviamente la perdita di tempo e il sapersi prendere il fallo fa parte del gioco però c'è quel discorso della condizione atletica anche da parte loro presumo di sì tu sai sei in campo quindi la vivevi sicuramente io in realtà non conosco bene come sia stata la loro condizione durante questo periodo però sicuramente il fatto anche di giocare 15 giorni dopo rispetto agli altri a livello di ritmo può darti qualcosa poi secondo me venire a giocare a Taranto anche la tensione della partita influisce anche sulle gambe perché ieri ci hanno sostenuto fino alla fine venire a giocare in un clima così non è facile per nessuna squadra certo proseguiamo con le immagini vediamo quello che è successo poi nel secondo tempo perché anzi dobbiamo ancora vedere un'altra circostanza favorevole per il Taranto al 47esimo qui c'è una sventola vera e propria di Luciani non di Orlando con il pallone che è terminato in calcio d'angolo dopo un intervento strepitoso da parte di Confente qui siamo nel secondo tempo c'è una distrazione difensiva che smarca Greco un discorso a due tra Greco e Vannucchi nella serata di ieri e ancora una volta Vannucchi ha la meglio Taranto poi prende metri Vicenza si abbassa e per mezz'ora si giocherà quasi costantemente nella metà campo dell'Anerossi-Vicenza qui c'è una conclusione da fuori da parte di Bifulco palla che è terminata alta sulla traversa poi sulle ripartenze vedete qui Costa a lunga per Ferrari che trova ancora sulla sua strada un super Vannucchi che anche ieri ha dimostrato di essere quel portiere che merita la stima di cui i tifosi del Taranto nutrono nei suoi confronti che i tifosi del Taranto nutrono nei suoi confronti qui c'è un recupero di Zonta che va alla conclusione dal tre quarti e para il portiere Confente anche insomma il duello Zonta-Confente è stato abbastanza interessante nella serata di ieri Svetta Luciani vedete palla a terra Orlando guardate che assist al bacio per De Marchi che è bravissimo in sospensione a aprire il compasso ma qui Confente fa un miracolo ancora una parata la vediamo sempre su Zonta questa l'avevamo vista poco fa il Taranto ha cambiato modulo è passato dal 3-4-3 al 4-2-3-1 con Luciani e Valietti che si sono abbassati sulla linea difensiva l'uscita di Ferrara è entrato Mastro-Monaco è cambiato il tridente completamente solo Orlando è rimasto per 90 minuti cosa che tra l'altro non era mai successa in questa stagione e poi ovviamente si creavano degli spazi in più per la formazione bianco-rossa qui vediamo Delle Monache che è un giocatore molto promettente che il Vicenza ha preso dal Pescara classe 2005 la sventola di Ronaldo Rasoterra però è centrale e neutralizzata Mastro-Monaco mette un pallone in aria per Luciani che prova l'acrobazia gli viene pure bene da finire sull'album delle figurine Panini però non c'è più tempo vedete eravamo al 94esimo e l'arbitro Centi di Terni manda tutti negli spogliatoi l'esultanza dei bianco-rossi che vanno a salutare i loro sostenitori allora vediamoci le statistiche di questa partita che ci fanno capire anche qual è stata la supremazia del Taranto che poi magari a vedere la partita non te ne rendi conto poi quando leggi i numeri c'è stata una supremazia schiacciante nei confronti di un Vicenza dal quale forse Roberto ci aspettavamo qualcosina in più non perché era stata dipinta come una squadra mostruosa invece l'abbiamo vista una squadra umana io dico questo in relazione a quello che poi si deve fare sabato no? perché non è che stiamo andando ad affrontare una squadra invincibile una squadra che ieri ha sofferto e non poco allora guarda io eravamo allo stadio ieri forte per verità tanto rispetto ci mancherebbe però mi piace sempre ricordare che il Taranto è arrivato secondo sul campo nel girone C che a detta di tutti è uno dei gironi più difficili dei tre con tutto il rispetto per il Vicenza che è arrivato terzo che è sicuramente una grande squadra però a mio modo di vedere avevano veramente timore di questo Taranto vuoi perché abbiamo un mister che mette benissimo in campo la squadra ma vuoi perché l'individualità cioè voglio dire comunque abbiamo dei giocatori importanti che in qualsiasi momento possono cambiare la partita ma anche l'esultanza finale Gianni ho visto anche qualche parata del portiere dove il difensore e il capitano esultavano perché avevano capito del rischio che stavano correndo quindi non so se Loris è d'accordo ma loro vi hanno temuto tantissimo ma penso che quest'anno molte squadre ci abbiano temuto nel senso che poi quando arrivi secondo sul campo e fai tutti quei punti e una squadra ti trova ai playoff ha paura di te perché vuol dire che hai fatto un cammino importante che hai giocatori importanti per la categoria e poi hai dimostrato di avere un gruppo che non ha paura di nessuno e con chiunque giochi se la gioca fino alla fine è quello che è stato anche ieri ce la siamo giocata fino alla fine contro una squadra forte non siamo riusciti ad agguantare il pareggio che forse meritavamo anche per come ti dicevo prima per grande bravura del portiere e questo sicuramente ci lascia rammarico nella partita di ieri per quanto riguarda poi ripeto la condizione fisica di qualcuno dei tuoi compagni tu sei in una condizione strepitosa nel senso che è stato un crescendo durante il campionato tu sei venuto fuori alla grande tutti sapevamo che era solo una questione di tempo perché del tuo valore ne parlano tutti bene tu come stai si vede che stai benissimo ringraziamo Dio e gli altri ci vuoi dare qualche indicazione un po' sui tuoi compagni che si vede c'è qualcuno che è affaticato che sta tirando senza far nomi però e si vede ci manca sono arrivato veramente a fine stagione increscendo a livello di condizione fisica e soprattutto anche mentale ovviamente anche i gol eccetera mi hanno aiutato tantissimo e comunque in tutte le squadre hai un periodo di ambientamento per me comunque era la prima volta che mi spostavo dopo tanti anni e non è stato facile anche ambientarmi a un calcio diverso perché magari nel girone A o comunque negli anni che ho fatto in B erano delle situazioni diverse e anche grazie comunque al mister che mi ha trasmesso dei concetti importanti sono riuscito poi ad arrivare in fondo a stare bene sicuramente abbiamo dei ragazzi che stanno stringendo i denti a tutti i costi che ovviamente non hanno potuto recuperare perché appena finito il campionato abbiamo dovuto iniziare a giocare subito e tanti stanno convivendo con dei problemi da tanto tempo si allenano veramente poco e di conseguenza quando vanno in campo in questo momento potrebbero possono soffrire quella che è la condizione di condizione fisica però io posso solo ringraziarli e farli veramente un plauso perché magari tanti altri giocatori preferiscono non giocare invece loro da questo punto di vista sono gli ultimi a mollare e vorrebbero veramente giocare tutte le partite al 100% per questo secondo me è stata la nostra forza il gruppo avere ragazzi che comunque mettono davanti la squadra prima di loro stessi e che ci ha portato a fare questi risultati allora vediamo la grafiche che ha preparato la nostra redazione per capire meglio quali sono stati i numeri di questa partita allora vedete i gol 0 Taranto 1 Vicenza nel primo tempo il gol del Vicenza come abbiamo detto tiri nello specchio all'interno dello specchio 7 il Vicenza e 3 il Taranto tiri fuori dallo specchio 6 il Taranto 2 il Vicenza pertanto siamo pari lì 9 tiri in porta del Vicenza 9 tiri in porta del Taranto però Roberto qui sul coefficiente di difficoltà delle parate io credo che le parate fatte da confente abbiano un coefficiente molto più elevato rispetto a quelle di Vannucchi che è stato bravo soltanto bravissimo super nella circostanza del primo tempo quando c'è stata quella di partenza in contropiede andiamo avanti tiri bloccati voglio dire i tiri respinti quelli che vengono che non vanno a buon fine che non arrivano né nello specchio né fuori che sono comunque significativi per comprendere qual è stata la mole d'attacco da parte della squadra i tiri bloccati sono stati due per parte anche qui siamo pari i corner in vantaggio il Taranto sette calci d'angolo per il Taranto quattro per la nostra di Vicenza e questo è anche un indice significativo di chi ha attaccato di più i falli più o meno gli stessi undici fatti dal Taranto dieci dal Vicenza fuori gioco uno il Taranto nessuno nelle nostre Vicenza le ammunizioni tre nel Taranto Zonta Ferrara e Orlando per proteste nessuna espulsione ecco vedete questa percentuale perché adesso comincia a diventare interessante la statistica l'ottanta per cento dei passaggi riusciti il Taranto il 69.6 invece per il Vicenza i contrasti quelli vinti dal Taranto 14 11 dal Vicenza contrasti complessivi quelli vinti dal Taranto il 93% quelli del Vicenza 73 possesso palla ecco questo è il dato più significativo in assoluto il doppio 65% il Taranto 35% il Vicenza vantaggio territoriale anche questo è un dato significativo 63% il Taranto 37% il Vicenza passaggi effettuati 439 contro 240 siamo al doppio cioè siamo al doppio poi la partita viene eletta anche diversamente 26 cross inclusi i corner contro 10 147 147 le palle perse contro 126 poi palle recuperate 53 dal Taranto 39 dalla Vicenza e il possesso palla del primo tempo è stato del 57,5% del Taranto contro il 42 e addirittura vedete nel secondo tempo 74 quasi per cento contro il 26% Loris questi dati li conoscevi? ma qualche dato l'abbiamo scoperto oggi non tutti questi però qualche dato l'abbiamo scoperto oggi ma comunque ce ne eravamo resi conto il secondo tempo è clamoroso c'è stata una grande supremazia da parte nostra loro si sono abbassati molto noi poi siamo riusciti a creare molte occasioni o comunque a portarci con un buon possesso palla nella metà nel campo avversario vediamo le altre grafiche che abbiamo preparato passiamo alla seconda ecco questa è l'analisi della partita generale la quantità e la qualità di gioco il Taranto ha giocato 621 palloni contro i 421 del Vicenza in percentuali le palle giocate il 76% al Taranto 69 il Vicenza mentre le giocate sulle fasce 64 contro 60 passaggi effettuati avevamo già visto poc'anzi 439 su 2,40 la posizione il Taranto ha tenuto una posizione in campo alta 56 metri mentre il Vicenza ha tenuto una posizione in campo molto bassa 43,1 questo il baricentro medio cioè il Taranto è stato quasi costantemente vedete nella metà campo avversaria che a sua volta Vicenza è stato quasi costantemente nella propria metà campo lunghezza della squadra media molto lunga cioè il Vicenza per ripartire era costretto ad allungarsi molto spesso e quindi vedete 41 metri contro i 35 del Taranto la larghezza l'ampiezza come dice spesso Capuano 51 metri contro i 48 qui più o meno ci siamo andiamo avanti vediamo un'altra grafica ecco l'analisi della partita guardando però la fase di non possesso ovvero la difesa l'atteggiamento per il fuorigioco 0 Taranto molto alto quello del Vicenza infatti abbiamo visto che la difesa a 5 quasi costantemente nella fase di non possesso del Vicenza era molto alta quasi zemaniana quasi a centrocampo poi il numero di fuorigioco provocati uno solo quello che è riuscito a provocare l'analisi di Vicenza le giocate di testa 44 parliamo di difesa 42 qui è un dato simile rinvi dal fondo 4 contro 13 rinvi a mano del portiere 10 di Vannucchi 5 di Confente poi le palle recuperate 53 dal Taranto 39 dal Vicenza numeri che riguardano poi i recuperi di palla e i falli infatti 4 e 82 contro 3 e 90 l'atteggiamento sul recupero palla basso per entrambi addirittura molto basso per il Vicenza i contrasti vinti 13 dal Taranto 8 dai Veneti palloni intercettati 15 a testa gli interventi positivi in aria in azioni difensive 40 contro 60 e questo è un dato che testimonia la robustezza Roberto del Vicenza perché poi dietro erano strutturati magari anche un po' Lenti però bravi molto bravi nel tenere la posizione nel riuscire a prendere le palle di testa nel piazzarsi sulle palle inattive insomma erano bravi sotto questo aspetto poi vediamo ancora le prese alte 2 contro 0 e le parate 6 di Vannucchi 3 di Confente però aumenta aumenta no 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 anzi ovviamente entrambi poi dribbling positivi vedete 4 contro 5 i passaggi filtranti 0 e 1 i corner li abbiamo visti ecco la pericolosità offensiva giocate utili in area avversaria 14 e 12 poi tiri da dentro l'area 5 contro 6 e infine tiri su palla inattiva 1 contro 1 queste sono le statistiche della partita poi è logico che il campo esprime verdetti che ecco questo ai punti no se la partita dovesse essere decisa come avviene nel pugilato avrebbe vinto il Taranto questi sono i numeri Gianni l'analisi credo sia perfetta ma era sotto gli occhi di tutti ripeto a dire il Vicenza è arrivato qui perché sapeva e voleva non perdere questa partita ha detto io li aspetto vediamo cosa succede poi avendo delle belle grandi individualità perché poi loro sono equilibrati su tutto il reparto difensivo di centrocampo e l'attacco hanno veramente dei giocatori che possono fare la differenza veloci nelle ripartenze dai dati si vede che avete cercato di stare larghi un po' di fare dal quinto al quinto un po' di tanto di verticalizzare ed entrare insomma il Taranto l'ha provato tutte diciamocela francamente ieri secondo me è finita la partita c'era poco da rimpiangere nel senso che abbiamo provato a dare tutto a fare tutto il possibile per recuperare la partita è stato bravo anche il Vicenza che ovviamente considerando le nostre caratteristiche ci ha aspettato un po' più basso non ci ha dato la profondità soprattutto quando è entrato De Marche e Canotè che sono due giocatori che attaccano molto bene la profondità e ovviamente ci sono anche gli avversari sono stati bravi loro però come dicevo prima andiamo a giocarci un secondo tempo là più convinti che mai che possiamo dire la nostra e fare la nostra partita e poi i numeri dicono proprio questo che il Taranto sicuramente deve andare lì e giocarsi questo secondo tempo poi sai nel calcio come nella vita un po' di fortuna ci vuole chiaramente se qualche palla entra ovviamente poi più passano le partite più la stanchezza si fa sentire il sabato per noi è già la quarta partita però questi dati e la partita di ieri ci dà la consapevolezza di essere una squadra forte e comunque di avere tutte le carte in regola per andare lì e ribaltare il risultato allora intanto io chiederai alla regia se è possibile metterci in contatto con il collega giornalista di Vicenza del giornale di Vicenza così a mente serena commentiamo anche con lui perché tra l'altro persona squisita professionista di livello da tanti anni segue la Nerosi Vicenza quindi parlo di Eugenio Marzotto che è una firma importante del giornale di Vicenza che Loris conosce tra l'altro bene per essere di là e quindi preparate questo collegamento cortesemente e cominciamo a calarci nella partita di sabato perché abbiamo preparato una scheda che ci riassume quello che deve succedere affinché il Taranto possa passare il turno vediamo il servizio di Vito Di Noi adesso al Taranto serve l'impresa perché non sarà sufficiente soltanto vincere almenti ma bisognerà farlo con almeno due reti di scarto né supplementari nel rigore 90 minuti di fuoco per ribaltare lo 0-1 dello Iacovone e giocarsi quindi l'accesso alla seconda fase nazionale playoff il Lane Rossi infatti è testa di serie il vantaggio sostanzialmente è qui in caso di parità al termine dei 180 minuti complessivi ad avanzare è la compagine con questo status il Vicenza nel caso specifico la storia però lascia speranza il Taranto che almenti ha vinto due volte nel 79 e una nell'86 per il resto in terra veneta sono giunti tre pareggi e sei sconfitte una situazione è diventata ancora più complessa aumenta dei rimpianti per quel nefasto meno 4 giunto lo scorso 7 marzo ma adesso non ci sono più prove d'appello vincere segnando due gol in più del Vicenza solo così sarà lecito e possibile sognare ancora la serie B Allora partiamo da un presupposto che nel calcio nulla è impossibile assolutamente le cose magari proprio quelle che sembrano più difficili poi si concretizzano questo ovviamente è quello che ci ha insegnato tanti anni di esperienza guarda Gianni credo che abbiamo un po' di anni di calcio ne abbiamo visto tanto a Taranto abbiamo seguito il Taranto seguiamo il calcio da tantissimi anni tutto praticamente si può realizzare è normale che in questo caso il risultato non ci aiuta però io credo che si può tranquillamente si deve credere in primis Loris abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque la partita di ieri è significativa da questo punto di vista sicuramente noi andremo lì per provare a passare il turno sappiamo che dobbiamo fare due gol e proveremo a dare tutto per cercare di fare gol quanto prima possibile per poi giocarci tutto più la partita andrà in là con il tempo sicuramente dall'altra parte ci troveremo una squadra esperta che ci farà soffrire uno stadio comunque pieno che supporterà i propri i propri ragazzi ma dall'altra parte anche noi spero e sono sicuro che potremo contare di una buona fetta di tifosi che verrà a sostenerci e di cercare di fare l'impresa tra l'altro ci saranno fuori sede sicuramente a Vicenza memory di quella che è stata l'annata del 2011 2012 qui il Taranto fu inserito nel Gironia e c'erano tantissimi tifosi del Taranto che venivano ovunque nelle località del nord arriveranno a tutte le parti Gianni già stamattina sui social la gente scriveva non vedono di prendere i biglietti no no sotto questo punto di vista avrete sicuramente l'appoggio sia dei fuori sede che quelli di Taranto invece ti volevo chiedere cosa secondo te farà il Vicenza cioè cosa fa vi aggredisce vi aspetta io presumo che il Vicenza partirà forte perché cercherà di soprattutto in casa di provare a chiudere la qualificazione quanto prima infatti dovremmo essere bravi noi a tenere botte cercare di controbattere subito cercando di andare in gol prima possibile presumo sia questa l'idea un po' che avranno perché potranno contare sul fattore ambientale come ovviamente l'abbiamo avuto noi ieri e proveranno a giocare così sicuramente sono delle idee che si presenteranno con lo stesso modulo e probabilmente anche con gli stessi giocatori in campo per affrontarci dovremmo essere bravi noi a trovare gli spazi giusti cercare ovviamente di andare in gol quanto prima possibile per poi provare a vincere la partita con due gol di scarto comunque insomma ci proverete io sono convinto che tornati negli spogliatoi volevate già rigiocarla quella partita sicuramente comunque il rimpianto più grande di ieri è non essere riuscita a pareggiare la partita ma abbiamo dato tutto quello che avevamo come ti dicevo è anche già la terza partita in pochi giorni la stanchezza si fa sentire ma abbiamo dimostrato di essere una squadra che lotta su tutti i palloni ed è questo che dovremmo andare a fare a Vicenza lottare su tutti i palloni e cercare di vincere la partita questa mancanza del gol perché create tanto ed è indiscutibile anche i numeri lo dicono questa mancanza del gol è una questione di fortuna? no non è solo questione di fortuna perché ovviamente quando non riesci a segnare è anche demerito probabilmente di chi calcio in porta io in primis ieri potevo sicuramente fare meglio nell'occasione del gol però poi sono dell'idea che sarebbe più preoccupante quando non crei se ieri fossimo stati messi dal primo stati messi sotto dal primo al novantesimo oggi staremo qui a parlare di una situazione molto più complicata invece io sono molto fiducioso conosco bene i miei compagni di squadra so che andremo lì a battagliare su ogni palla per cercare di vincere la partita e fare il meglio che possiamo fare poco tempo poco tempo per prepararla sta partita però più che poco tempo per prepararla è poco tempo per recuperare le energie perché come dicevamo prima tanti giocatori Simone Calvano Ferrara comunque sono ragazzi che veramente è andato tutto durante il campionato e in questo momento hanno alcuni problemi fisici e per noi sono dei giocatori importantissimi quindi due o tre giorni sono pochi per recuperare però lo spirito e la voglia di andare a fare una grande partita c'è e questo deve darci la carica per andare lì e provare a fare la partita che poi il Taranto ha vinto sette partite in trasferta in questa stagione durante il campionato quindi è una squadra che comunque in trasferta il risultato lo fa mentre per quanto riguarda la condizione atletica adesso bisogna per la prima volta durante questi playoff fare allenamenti e poi il lungo viaggio quindi come è organizzato il Taranto domani farà oggi scarico ovviamente poi domani una seduta di allenamento la squadra poi partirà domani che giovedì partirà per Bari e pernotterà lì a Bari e poi ci sarà la partenza del mattino del venerdì per arrivare in Veneto lì ci sarà una seduta di rifinitura venerdì e poi sabato la partita alle 20 anzi alle 21 si giocherà alle 21 questa questa partita e quindi questo in qualche modo creerà qualche strapazzo in più però ormai siamo in ballo come si suol dire non ci spaventa più niente sicuramente l'accoppiamento sia per noi che per loro dal punto di vista della distanza ti porta a viaggiare e di conseguenza a recuperare meno ma come lo è stato per loro lo è anche per noi e quindi andremo lì a fare la nostra partita a battagliare su ogni palla l'unica differenza è che ovviamente noi arriviamo sarà la quarta partita in dieci giorni che di solito in campionato non capita mai e a fine stagione un po' di stanchezza si può accumulare però Gianni ieri ci sono stati dei risultati durante i playoff anche che ci hanno un po' sorpreso una Juventus che perde in casa un'Atalanta che perde in casa comunque voglio dire si può fare si può fare il segnale il messaggio credo che quello che oggi Loris ci sta dando ma non abbiamo dubbi è che voi ci siete voi ci siete avete dimostrato di esserci e tutti noi siamo convinti che andrete lì e cercherete di ribaltare veramente questa situazione quindi di questo noi quest'anno siamo convinti di avere una squadra forte io nel frattempo mi permetto di portare quello che è un po' il messaggio di tutti perché è anche doveroso fare una cosa ringraziarvi perché poi al di là di quello che sarà il risultato che tutti ci auguriamo sia il migliore intanto grazie grazie perché veramente avete riportato squadra società tutti avete riportato le persone allo stadio io non so poi Loris cosa farà da grande io mi auguro che la maggior parte di voi possa rimanere nel Taranto però è doveroso ringraziarvi adesso la ciliegina sulla volta l'ultimo ostacolo veramente è quello di ancora di più buttare il cuore oltre l'ostacolo noi da parte nostra sappiate che ci sarà una città ferma cioè noi sabato sera chi verrà lì chi starà a guardarvi in televisione la città è bloccata quindi avrete tutto l'appoggio di noi di noi tifosi dei fuori sede e quelli che verranno quindi intanto grazie e poi insomma vediamo cosa accade che dice Loris ma sicuramente un grazie va dato anche al mister che ha creato insieme poi al presidente una squadra è riuscito a portare tanto entusiasmo poi noi nel campo ci abbiamo messo dal nostro e questo sicuramente ci dà enorme piacere per noi ieri essere stati applauditi dopo una sconfitta è una vittoria da questo punto di vista per noi sicuramente è rammarico di non essere riusciti a pareggiarla e di dover comunque andare lì per fare due gol quando magari sarebbe bastato un gol e poter vincere la partita è un'impresa difficile contro una squadra forte preparata iniziano per vincere il campionato però noi abbiamo dimostrato tutta la stagione di poter giocarcela con chiunque e andremo lì a fare la nostra partita ieri è stata una partita qui abbiamo Zonta ma è stata una partita particolare anche per tre calciatori del Taranto non solo Zonta anche Valietti e Orlando altri due ex del Vicenza e che Capovano ha deciso di schierare tre insieme anche perché comunque sono tre titolarissimi e allora abbiamo preparato una scheda su questa partita speciale di questi tre calciatori rosso-bru impresa titanica nel segno degli ex Capovano punta tutto su coloro che almenti vantano ricorti di un certo spessore è il caso di Loris Zonta il tutto fare del centrocampo 172 presenze con la casacca del Vicenza impreziosite da 6 gol e 8 assist il tutto in un lustro dal 2018 al 2023 poi la scorsa estate il prestigio prestito al Taranto perché non rientrava più nei piani del club ma lo stesso Vecchi subentrato a Diana in conferenza stampa ha espresso tutto il suo gradimento nei confronti del numero 29 rosso-blu probabilmente con lui in panchina sin dall'inizio Zonta sarebbe rimasto e anche con un ruolo di primordine c'è poi Orlando in Veneto nella stagione 2016-17 3 gol e 8 assist il suo bottino infine Valietti giunto a Taranto proprio dopo aver trascorso la prima parte dell'annata a Vicenza ma in prestito dal Genoa tre calciatori chiave che sabato sera incroceranno il loro passato Capuano si fida di loro e insieme a lui anche tutta Taranto Vicenza Taranto sabato 18 maggio alle 21 Roberto comunque comunque vada ho sentito dire sarà un successo sei d'accordo che scherzi Gianni assolutamente sì abbiamo fatto un'annata straordinaria abbiamo chiaramente quando parliamo di Taranto ci mettiamo dentro tutta la città tifosi squadra società tutti l'annata è stata straordinaria ripetersi non è mai facile è sempre più difficile io per dirvi la verità sono un po' un po' rammaricato per quello che poi è questo regolamento di questi playoff e qui la domanda la faccio non allo sportivo ma al dipendente perché non ci dimentichiamo mai che voi siete dei dipendenti che comunque lavorate fate uno dei lavori più belli del mondo ma è un lavoro ma può essere che questi playoff devono essere così massacrati perché per voi è un massacro sicuramente a livello fisico è un massacro importante quando devi viaggiare anche diventa complicato perché ovviamente non si hanno a disposizione i mezzi di società di serie A o comunque certi tipi di centri sportivi certi tipi di recupero ovviamente è tutto proporzionato e di conseguenza sono 30 squadre playoff sono veramente veramente tante si gioca ogni tre giorni e diventa difficile da questo punto di vista sì perché poi credo non so se sei d'accordo con me si va un po' a falsare lo spettacolo perché poi alla fine chi entra chiaramente chi arriva secondo o terzo salta dei turni insomma va bene tutto però probabilmente fermarsi alla quinta classificata piuttosto che arrivare alla decima hai uno spettacolo migliore fai andate e ritorno cioè dai un po' di riposo quello assolutamente anche per il fatto che comunque sono d'accordo sul fatto che chi entra come seconda e terza debba avere dei vantaggi da questo punto di vista ma è anche vero che magari noi che abbiamo giocato contro la decima in classifica in campionato abbiamo avuto 20 punti di distacco è assurdo e magari per una palla rischi di uscire questo è quello che magari in Serie B non accade e magari nei prossimi anni andrà speriamo andrà rivalutato e cambiato parliamo di Loris Zonta che ha giocato tutto il campionato segnando quattro reti due assist e tra l'altro increscendo come giustamente sottolineavi vuoi fare un bilancio della tua annata da Cascia da quando ci siamo conosciuti a luglio del 2023 a oggi è stata un'annata importante dal punto di vista numerico sia nell'ezzettivo che a livello di assi è stata la mia migliore stagione in in Serie C e devo dire che non è stata una stagione facile perché comunque all'inizio ho avuto alcune difficoltà anche perché ero abituato a un gioco diverso un calcio diverso e anche a un girone completamente diverso poi grazie al mister che mi ha sempre trasmesso grande fiducia e soprattutto lavorando tutti i giorni su quelle che magari potevano non essere le mie caratteristiche principali sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio e poi a a finire increscendo questa questa stagione sei soddisfatto sì sono molto soddisfatto soprattutto di come di come sono riuscito a maturare nel corso della stagione grazie al mister grazie allo staff e grazie anche soprattutto ai miei compagni che mi hanno sempre fatto sentire un giocatore importante per la squadra e di questo gliene sono grato perché un gruppo così ho avuto difficoltà a trovarlo negli anni e quest'anno veramente comunque vada in base in base a dove sarò l'anno prossimo se qui o ritornerò a Vicenza saranno dei ragazzi che mi rimarranno nel cuore ecco adesso però c'è un punto interrogativo sul futuro perché bisognerà capire dove giocherà il Taranto nelle prossime partite casalinghe bisognerà capire come andrà a finire la situazione contrattuale di Loris Zonta che in presto ci sarebbe l'opzione di riscatto mi pare si all'opzione di riscatto il Taranto a loro favore contro partita economica quindi saranno cose che poi andranno valutate e comunque valuterà la società però un pensiero intimo ce l'avrai se vuoi ce lo dici altrimenti mi dici no io sicuramente qui mi sono trovato alla grande devo dire che è stata per me una stagione positiva anche la mia famiglia si è ambientata molto bene di sicuro saranno cose che poi andranno valutate in futuro preferisco finire la stagione concettata perché non è ancora finita sabato ci giochiamo una grande partita e poi quello che sarà sarà valutato nelle appositi sedi con il mio agente eccetera certo allora abbiamo il collega Eugenio Marzotto del giornale di Vicenza eccolo qui ciao Eugenio come stai? non ti sentiamo però aspetta che non ti sentiamo io mi sento ecco adesso ti sentiamo anche noi perfetto come va? ho sentito prima dell'alba ma sono arrivato qui puntuale al lavoro e per voi lasciami salutare Lovis innanzitutto ciao Eugenio ho un grande ricordo di lui e delle sue annate peccato che abbia vissuto le avanti più sfortunate della storia almeno recente del Vicenza però insomma abbiamo un bellissimo ricordo di Zonta e sono contento che sia protagonista tanto senti vorrei una tua valutazione così in generale della serata di ieri il risultato il pubblico la partita ecco mi dai una tua valutazione da giornalista esperto perché insomma anche tu c'è la tua età sì sì capelli non ci dio più ci dio qui ci dio qui e sono bianchi e no allora ho visto una bella partita una bella partita in un contesto fantastico la prima la prima cosa che mi ha colpito sono stati i tifosi la loro generosità la loro correttezza e l'incitamento fino fino alla fine tanto da evitare l'invasione a Vicenza sul piano della partita ti devo dire che ho visto un bellissimo Vicenza nel primo tempo che ha stupito anche me per la sua facilità di essere compatto giocando con grande personalità per quanto riguarda il in tanto è stato sfortunato come dicevamo ieri nel post partita era una partita da pareggio sento il ritorno intorno in cui si toglie ma comunque il credo che sabato sarà un'altra partita però con l'interno che dovrà fare la gara e vecchio è bravissimo a giocare in contropiede quindi come ha dimostrato ieri peraltro senti ci dai qualche notizia poi ti salutiamo perché mi dici che hai questo ritornio fastidioso non ti vorrei creare problemi poi insomma hai fatto un viaggio lunghissimo adesso devi rimetterti al lavoro insomma ma sto qui un uomo d'altri tempi sto qui con voi senti che atmosfera si respira a Vicenza in vista ovviamente della partita di sabato ma si va tutto esaurito c'è grande attesa è un il Menti è un catino Loris lo conosce bene ha vissuto partiti importanti c'è grande entusiasmo c'è grande ottimismo c'è grande vicinanza tra tifosi e squadra in questo momento sarà una bellissima partita e ci sarà l'effetto Menti che non è da meno secondo me dall'effetto Giacobone a Tardo quindi ci sarà una bella una bella partita mi dicono che da Tardo sono già 1200 e oltre i biglietti acquistati quindi si sarà tutta da godere qual è la capienza del settore ospiti al Menti perché mi sa che la capienza massima è più o meno come quella dello Giacobone attualmente cioè circa 12.000 si circa 12.000 la curva nord può poi va il 1400 1500 più o meno insomma è quello certo faccio a te la stessa domanda che ho fatto a mister vecchi nell'immediato dopo gara sarà una formalità questa gara alla luce anche di quello che è successo soprattutto il risultato ieri no guarda oggi usciamo con l'intervista a confente che si è mi ha ritratto la copertina non a caso del migliore in campo dopo la parata di ieri e lui ha detto abbiamo fatto solo metà del lavoro quindi mentalmente sono pronti per vincere la partita e chiudere la qualificazione subito questa squadra ha grande mentalità cosa che non avevamo visto nel giornale di andata senti ci avete dato un bel centrocampista Loris Zonta 26 anni insomma ha fatto un super campionato quest'anno col Taranto no sono contento per lui poi ho il cuore anche un po' nevazzurro lui ha fatto la prima era la leader quindi insomma mi è particolarmente simpatico no diciamo che Zonta ha fatto dei bei campionati a Vicenza e quest'anno secondo me ha trovato la sua dimensione e non era facile non era facile dal punto di vista mentale passare dai campionati del nord e una vita passata al nord e vivere in una meravigliosa terra come la Puglia però quando devi rigiocare diventa il tuo lavoro è tutto più difficile e quindi sono felice per Loris non lo so come andrà a finire a giugno a luglio sulla scadenza del contratto so che Vicenza ha tanti prestiti in giro e quindi qualche bilancio sui prestiti lo dovrà fare una domanda da Roberto Donofrio e poi ti lasciamo al tuo lavoro Eugenio e ti ringraziamo Eugenio buonasera Roberto Donofrio buonasera io ho espresso una mia opinione in merito al discorso di questo sistema dei playoff che è un gioco al massacro ecco volevo un po' un tuo pensiero guarda sarò drastico io purtroppo ho fatto tanti campionati di cicoli di Vicenza lo prendo un attimo da lontano e sono per fare un girone unico della serie da 20 squadre ok e premiando quelle società che hanno custodia stadio pubblico eccetera eccetera quindi come Vicenza come Taranto ma come tantissime anni questa è una premessa l'altra cosa che è questo terno all'otto che sono i playoff non 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 hanno non hanno senso faccio solo una battuta allora ieri due squadre hanno vinto contro l'anno 21 scusa 23 dell'Atalanta e della Juventus allora io io credo che sia l'Atalanta che la Juventus non sia così il core business andare in serie B con i giovani hanno passato il primo turno e nel secondo turno hanno perso entrambe le squadre lasciando qualche giocatore in panchina e altri sono andati convocati in prima squadra quindi dando un segnale un po' di distrazione quanto meno e ci siamo capiti certo allora continuiamo così è la morte del calcio è la morte del tifo soprattutto voi sapete che sabato giocheremo alle ore 21 per ragioni televisive e quindi andiamo avanti in questo in questo spettacolo con con tanta difficoltà almeno c'ho mezz'ora in più per arrivare per farvi questo viaggio da Taranto a Vicenza con la macchina ma sai che dopo ti devi fermare a cena sì sì certo come no Gianni se posso volevo chiedere a Eugenio davvero una persona squisita mancavi da Taranto da un po' di anni e se sì come l'hai vista a Taranto no devo dire che io a Taranto non ci sono mai stato prima di ieri ed è una città insomma appassionata io sono come dire un po' dura per certi versi però con della gente con della bella gente io ritorno sul pubblico e sulla gente di Taranto che mi ha che mi ha colpito poi Puglia l'ho girata ammetto l'ho girata in tanti punti ma mai a Taranto però però questa è l'occasione per tornarti visto che ho trovato degli amici dai ti faccio salutare con Loris magari salutatevi in Vicentino lui di Bassano del Grappa tu sei di Vicenza dai ditemi qualcosa in Vicentino in vista della partita di sabato dai chi inizia inizio io vai vai Loris dai se vediamo sabato mi raccomando un abbraccio vediamo sabato dopo la partita abbiamo un bicchiere di vino non ho capito niente vabbè traduci prima di chiudere ci vediamo sabato mi raccomando lui mi ha detto ci vediamo sabato dopo la partita bevevamo un bicchiere di vino ah ecco ho capito un grappin quello a fine stagione quello a fine stagione quando sarà tutto finito non ce lo possiamo permettere grazie grazie di cuore a Eugenio Marzotto buon lavoro un saluto ovviamente a tutti i colleghi giornalisti del giornale di Vicenza questa storica testata che insomma è una o dei fiori all'occhiello dell'editoria nazionale grazie Eugenio buon lavoro ci vediamo sabato con tanto affetto davvero insomma persona squisita insomma come sono per la verità bisogna dire tutti i vicentini perché voi sono simpatici ecco quella parte buona del vento sì poi ci siamo incontrati anche in tribuna in sala stampa persona veramente squisita per adesso il calcio Gianni lo sport deve essere questo alla fine è questo è un gioco si va fuori infatti io auspico un'altra bellissima serata di sport mi auguro di vedere i nostri i nostri tifosi lì a Vicenza insieme si giocheranno questi 90 minuti dopodiché si va a bere si va a ridere e scherzare questo deve essere siamo al momento dell'arbitro l'arbitro che dirigerà la partita tra i nostri Vicenza Taranto di sabato prossimo vediamo insieme si tratta del signor Ruben Arena è un arbitro importante eccolo qui si tratta di un direttore di gara di Torre del Greco vicino a Napoli ha collezionato 108 presenze in serie C tre in Coppa Italia anche di serie C 542 le munizioni 35 le espulsioni 26 calci di rigore decretati tre i precedenti con i Veneti una vittoria e due sconfitte Vicenza Next Gen Juventus 2 a 0 Pro Patria Vicenza 2 a 0 e Pro Sesto Vicenza 2 a 1 playoff di serie C terzo turno invece del 2022-23 poi 5 invece i precedenti con il Taranto non sono pochi uno in serie D nel 2018-2019 Francavilla Insigni Taranto poi in serie C Francavilla Virtus Francavilla Taranto 0 a 0 del 2021-22 Taranto Pescara 3 a 0 della passata stagione e quest'anno Taranto Foggia la prima giornata di campionato quella del famoso incendio finita 2 a 0 per il Taranto e infine la partita la trasferta di Monopoli dove il Taranto vinse 2 a 1 ha diretto anche tante partite nel corso di questa stagione sarà coadjuvato dagli assistenti Vincenzo Pedone di Reggio Calabria Giorgio Ravera di Lodi quarto uomo Domenico Mirabella di Napoli al Var ci saranno Lorenzo Magioni di Lecco e Giacomo Paganessi di Bergamo ringraziamo Sante Scardillo per le notizie riguardanti il direttore di gara bene allora un pensiero finale prima di salutarci per chiudere la trasmissione iniziamo da Loris Zonta che tra l'altro è la terza presenza qui con noi a Rosso Blu ad Antenna Sud e grazie ti ringraziamo per la grande disponibilità a voi sembra piacere tornare qui con voi e niente un augurio a tutta la squadra a tutti i tifosi rosso-blu di poter gioire assieme dopo la partita di sabato comunque vada è stata una stagione importante ma noi ci crediamo e abbiamo bisogno di tutto il supporto come è sempre stato da parte in questa stagione dei nostri tifosi intanto Roberto c'è il giudice sportivo che ha combinato mille euro di multa al Taranto per dei cori che sono partiti alla fine del primo tempo e poi altri cori alla fine del secondo tempo insomma ci sta mille euro di multa ha fatto anche il giudice sportivo 100 euro di multa alla Triestina quindi non sfugge non sfugge niente il tuo pensiero finale pensiero finale nulla il pensiero finale è rivolto ai ragazzi ai giocatori chiaramente è quello di ripeto mi ripeto un po' di mettercela tutta ma sono convinto che sarà così sarà una notte lunga quella tra venerdì e sabato sicuramente sarà gente che non prenderà sonno tutti agitati saremo intrattabili fino alle ore 21 per il resto ripeto a dire grazie per quello che avete fatto per quello che state facendo per quello che farete quindi da parte nostra è solo un grazie tra l'altro a Vicenza si giocherà la partita numero 42 anzi no c'è anche la Coppa Italia c'è la sfida di Picerno quindi sarà la partita numero 43 quella che si giocherà 43 partite in un'annata sono davvero tante tantissime neanche in Serie A chi fa le Coppe Europee fa tante partite quindi 38 di campionato una di Coppa Italia 39 più già 3 di playoff sono 42 e bisogna giocare quella di sabato 43 poi fino al 9 giugno ce ne sono altre 6 quindi mi tocca fare 49 partite 49 partite Loris speriamo volentieri facciamo volentieri ovviamente è una battuta quella che stavo facendo ci mancherebbe allora noi ringraziamo per la collaborazione tecnica Gianfranco Medillo che ha curato la parte tecnica stasera non abbiamo la possibilità di mostrarvi le vignette di Leo Zazza perché stiamo andando davvero molto veloci e anche fuori giornata perché anziché al martedì come abbiamo detto all'inizio siamo in onda al mercoledì voglio chiudere vorrei chiudere la trasmissione così come l'abbiamo aperta e c'è con il pubblico dello Iacomone con la stessa clip che abbiamo visto poc'anzi proprio come una sorta di sigla di questa nostra trasmissione dedicata al calcio alla Serie C in particolare grazie a voi da casa per la cortesia attenzione grazie a Loris Zonta centrocappista del Taranto e grazie a Roberto Donofri un saluto anche al collega Eugenio Marzotto che ci ha dato il suo contributo dal giornale di Vicenza in Veneto grazie e arrivederci ok mirovi a Grazie a tutti.